Primi appuntamenti a Biceglie per allargare le coalizioni, presentare i programmi, rinsaldare i rapporti in vista dell'appuntamento elettorale della prossima primavela 2018. Tra i primi a muoversi vertici di Biceglie svolta il movimento creato dall'ex capogruppo del PD Angelo Antonio Angarano. Ascoltiamo. Un nuovo progetto politico per tentare di arrivare all'appuntamento elettorale come? Pensiamo che intorno a questa idea che Angelo Antonio ha tirato fuori con questa svolta, noi che siamo abituati e quindi allenati a questi sistemi innovativi che danno anche alla città qualcosa che faccia sperare veramente a una realizzazione di cui la gente oggi per un'aspettativa di rispetto innanzitutto, di dignità e di ripresa ha bisogno. Quindi sulla base di queste valutazioni e di questi valori noi puntiamo insieme ad Angelo Antonio come gruppo cattolico, come gruppo donsturziano o che devo dire l'amore per De Gasperi, la vera politica, quella fatta di umiltà e di rapporti umani ci ammalia e quindi ci fa stare bene. Biceglie Svolta propone proprio questa novità sul territorio di Biceglie, quello di aprirsi a tutti, a tutte le associazioni, a tutti coloro che vogliono impegnarsi per il bene comune. Ma infatti è proprio quello lo spirito ed è questo il messaggio che stiamo cercando di trasferire anche attraverso incontri come quello di stasera, ovvero sia amministratori, ex amministratori, gente impegnata nel civismo quotidianamente. Infatti stasera c'è Natale Parisi, ma c'è anche Gianni Naglieri, Vittoria Sasso, Ezio Spina. Cioè lanciare il messaggio che stare insieme è bello, la politica quella vera, quella sana è qualcosa che unisce e non divide e soprattutto che c'è qualcuno che ha ancora voglia di donare la propria esperienza agli altri. Perché stasera coloro che parleranno racconteranno le loro storie, le loro esperienze, diranno quello che vogliono fare per la città, ma soprattutto ascolteranno chi è seduto accanto a loro e tra il pubblico per quanto riguarda le eventuali proposte, suggerimenti, denunce, sfoghi e quant'altro. Questo è il messaggio importante che stiamo dando, c'è il messaggio che la partecipazione è quella vera, sta arrivando al comune di Biceglie e sarà sicuramente la parte fondante del nostro programma. Anche il Partito del Sud prova ad entrare in questo contenitore che è Biceglie Svolta per dare una svolta a questa città. Infatti sì, il Partito del Sud che si ispira alle ideologie gramesciane e anche a Di Vittorio, c'è gente che ama il proprio territorio e al fianco di questo progetto di svolta anche noi stiamo cercando, dove è possibile, dei comuni, di essere a fianco a quei candidati, a quelle persone che intendono una politica completamente diversa da come si è intesa da predecessori di questa città, di chi ha amministrato finora questa città, che anziché svilupparla dalla base ha pensato soltanto ad essere un'arrampicatore sociale.